cari amici oggi voglio parlarvi di una penna stilografica americana veramente eccezionale ecco la vedete qua chiaramente insomma già guardandola insomma si capisce che stiamo parlando di un oggetto vintage infatti questa è una stilografica wall ever sharp modello personal point prodotta dal 1929 fino al 1932 vedete quindi una forma diciamo flat tagliata qua in orizzontale sui sui codali sul cappuccio sul codale qua classica classica clip di quegli anni abbastanza diciamo una forma classica per quei tempi ma nasconde appunto un segreto per questa stilografica che adesso andremo a provare e a vedere allora però è importante proprio il pennino di questa stilografica che appunto adesso andremo a vedere ecco perché appunto caricamento a levetta corpo scrittura in ebannite nera ma la parte diciamo top è proprio questo pennino in oro che vedete ha una peculiarità particolare ecco è un pennino in oro misura 7 lo vedete che è un cursore sopra il pennino scorrevole con delle tacche quindi il pennino questo cursore superiore installato sopra il pennino va su e giù e mi consente di regolare quindi quando è tutto giù il pennino diventa molto più rigido quando come in questo caso è tutto su vedete ai rebi liberi il pennino esplicita la massima flessibilità propria ok allora questa pena come è arrivata a me ho fatto un post di ringraziamento al mio amico arminio murrao mi è stata regalata da arminio gli amici servono anche adesso andiamo a vedere la più da vicino servono proprio anche a queste cose cioè lui sapeva benissimo io desideravo tanto una penna simile perché avevo visto questo pennino su una volevershop modello doric presente in officina scrittura fra le 13 regine quindi tra le penne stilografiche in qualche maniera hanno portato veramente delle grosse novità la grossa novità della volevershop modello doric era appunto questo pennino regolabile allora la doric è quindi una versione successiva perché come ho detto la personal point quindi questa qua nella fattispecie che ho fra le mani termina la produzione nel 32 invece la la doric con quel pennino con questo pennino diciamo variabile viene introdotto proprio a partire dal 1932 quindi in concomitanza con la fine della produzione della persona poi ma un leitmotiv della volevershop era quello di dell'interscambiabilità dei pennini quindi non è stato difficile per il minio diciamo cambiare il suo pennino originale va detto peraltro che lui ha compiuto veramente un piccolo autentico miracolo su questa stilografica perché l'ho vista come era in partenza era cioè solo da buttare quindi ha fatto un grosso lavoro di restauro e di ricostruzione del corpo scrittura qua tutta la componentistica della della diciamo richiamo dell'inchiostro sulla sulla levetta qua la ricostruzione completa della della condotta ok perché particolare perché poi a un certo punto entra anche dentro il cursore ma rientra dentro il gruppo scrittura quindi non è stata una cosa così semplice sono stati rifatti i tappi di chiusura estremi insomma un grosso lavoro ridorata rilucidata questo che vedete qua questo tondino qua dorato non è nient'altro che il gold seal quindi la garanzia vita che veniva fornita su queste penne vedete la clip riporta il nome della marca e niente adesso poi andiamo a vederlo ecco ma la cosa che ci tenevo tanto a dirvi è che non poteva non colpirmi molto moltissimo anzi questo tipo di pennino perché vuol dire che nel 1930 avevano già capito tutto cioè e peraltro in maniera meccanicamente raffinata avevano risolto già il problema e poi una cosa simile ce la siamo ritrovata adesso poi la faccio vedere con modelli di case nipponiche nella qual caso la pilot giustus 95 che ha ripreso un po questo concetto ma andremo a vederlo anche se poi i risultati insomma sono a distanze siderali di quelli che ho con questa penna qua e quindi cosa succedeva in quel momento nel 1930 c'era bisogno di fare carigrafia le persone scrivevano molto bene quindi i penini dovevano essere flessibili lo sapete tutti i penini in oro e non di quegli anni fino agli anni 40 50 erano molto flessibili poi da lì in avanti ahimè sono diventati man mano sempre più rigidi per appunto riprendere un po le sensazioni di scrittura fornita per una sfera quindi penini scorrevoli molto scorrevoli ma essenzialmente molto molto rigidi allora questo pennino in questa condizione appunto al massimo di molleggio dei rebbi ma se tiro giù se tiro giù tutto il cursore il pennino diventerà duro ma perché c'era bisogno anche che avesse una sua durezza una sua rigidità perché magari c'era bisogno di scrivere con della carta carbone quindi la carta copiativa su più copie quindi avevo bisogno di un pennino molto 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 rigido ok quindi il pennino è questo lo andremo a vedere in funzione allora la cosa straordinaria di questo pennino eccolo caricato ho ancora qualche residuo sulla punta dell'inchiostro allora il bello di questo pennino è che ho dei fini veramente fini nel termine infatti non nasceva così fine ok e ho anche dei contrasti ecco ho anche dei contrasti decisamente più evidenti quindi passo e quindi sono nella mia condizione ottimale allora andiamo a farla insomma a pigiare sull'acceleratore andiamo vedete bellissimi segni allora porta veramente molto bene l'inchiostro quindi la penna mi segue veramente in una maniera meravigliosa avete visto andiamo a vedere cosa cosa succede se ne faccio un uso più calligrafico nessun problema la prova regina non sono come ho detto mille volte il simbolo di infinito ma è un bello ovale allora se faccio un ovale come vedete i rebbi hanno un ritorno fantastico proprio cioè facciamolo meglio eccolo vedete qui e qui stessa stessa gradazione di tratto quindi perfetto quindi posso scrivere in consiglio inglese benissimo nessun problema ok 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 assolutamente assolutamente meravigliosa veramente non ho altre parole cioè erminio veramente mi ha fatto un veramente un grandissimo dono lo ringrazio ancora in questo video perché veramente lui sapeva appunto che ci tenevo molto e insomma mi fa piacere vedere che i veri amici si ricordano poi dei desideri degli altri dei loro amici e poi insomma a volte possono esaudire questi desideri no quindi io sono veramente felice di questa penna e voglio spendere e quindi potete vedere insomma veramente tra le altre cose con la condotta nuova che gli ha messo un erogazione veramente ottimale sia nella quando vado sul fine quando lo chiamo il pennino lui mi risponde sempre non ho anche nelle mitiche cappa che sono sempre molto molto impestate vedete vedete che guardate che segno meraviglioso e quindi mi segue mi segue sempre veramente con una veramente componentistica ottimale tra pennino è condotta in evalente eccezionale vorrei dire questo segno è assolutamente meraviglioso vedete si azzera qua riparte ho ancora un po' di grip e si riazzera sulla coda eccezionale due parole su quello che avevo detto non è una comparazione la farò meglio e più tardi farò anche dei video su queste penne vedete io ne ho addirittura due ho presi due eccole qua queste sono anzi apriamo un po' il campo se no sta tutto stretto eccole qua sono due Pilot Giustus 95 pennino in oro 14 carati sono bellissime penne se no non avrei due cioè doppie penne io le ho solo dell'Aurora 88 e queste qui ci sarà un motivo io ritengo veramente faccio spoiler un po' il video che farò su queste penne eccezionali livrea seria mi piace molto questa lavorazione particolare della resina la vedete è veramente particolare molto ben bilanciate splendide penne non sono cariche queste però volevo farvi vedere la differenza che ho con ecco lo vedete qua ho ecco lo vedete ho una linguetta vedete c'è scritto H S no quindi vuol dire H vado in posizione arda quindi diventa duro quindi io giro la mia scusate giro questa ecco lo vedete vediamo se ecco vedete che va avanti in posizione arda quindi ricordatevi che anche un cappello sopra il pennino lo rigidisce quindi il fatto di ritrarlo vedete qua diciamo è molto più comodo che sulla whatever shop adesso ve lo faccio vedere è una cosa che devo fare sulle dore che si faceva col pennino cioè scusate col cappuccio perché era rivestito fino a questo punto e non lo rovinavo quindi andavo proprio lì a a tirare il cursore con questo non posso fare se non rovinerei la celluloide qua è molto più comodo ma insomma stiamo parlando di una penna moderna ma il problema voglio dire è una penna che è splendida va benissimo superlativa NO2 il problema è che ho una durezza veramente qua è tutto è tutto libero il pennino ma lo vedete che sto premendo ma appena appena si si apre cioè come dico io un maledetto chiodo anche a rebbi completamente aperti no poi è una splendida penna ed è una delle migliori penne per l'uso quotidiano quindi ho un penino F1M di questa penna ok però è lungi dall'essere questa cosa meravigliosa questa cosa meravigliosa queste queste qui scusate se la sognano purtroppo qua bisogna andare con la mano ma io non mi sono mai sporcato lo sto usando cioè lo vedete vado con la mia undia ecco qua è alla massima libertà di rebbi se lo sposto avanti lo vedete lui è andato tutto avanti ci sono nove gradazioni eccolo qua lo vedete adesso è tutto avanti è chiaro che avendolo tutto avanti sto schiacciando molto ma vedete non ho se lo porto indietro quindi vedete io proprio vado con l'undia ma tutto indietro tutti i rebbi aperti ecco ma vedete che non mi sono sporcato più di tanto non c'è nessun problema però vedete che le cose cambiano ed è un piacere scriverci infatti poi Arminio mi ha detto che volendo si poteva anche affinare di più ma va bene così cioè preferisco cioè la stilografica poi vabbè lui me l'ha fatta una aurora che ormai è diventato un pelino di intinzione però preferisco che questa splendida penna rimanga sempre una stilografica cioè usabile sia per grafie gestuali quotidiane come questa anche con accelerazioni e pressioni improvvise sia pressioni posate come la prossima inglese ma sempre senza impuntamenti eccessivi simili a quelle un pennino in intinzione quindi io vi ho chiesto di tenerla così lo ringrazio ancora splendida penna e niente prossimamente vi parlerò anche di queste due che sono veramente delle super penne ma secondo me ahimè anni luce da questa esperienza di scrittura purtroppo lo sappiamo insomma col tempo si sono perse molte cose per strada nei pelini flessibili questa è la massima espressione meccanica di quel concetto che mi sta tanto a cuore dove veramente raduna perché avendo le nuove possibilità di interpretazione del segno è una cosa veramente eccezionale purtroppo c'è tanto da imparare perché abbiamo perso molte cose l'avete visto e lo vedrete poi nel prossimo video io mi auguro cioè questa ha una qualità di meccanica eccezionale perché quella linguetta che va su e giù senza spoccarsi le mani un frutto pulito perfettamente lineare però ci andrebbe un pennino almeno il doppio se non il triplo più flessibile perché se no e poi sempre averlo F e quindi io quando ho visto che non c'era possibilità ho preso poi un F e un M però ci va sempre un F un F tirato ma deve essere un po' flessibile se no che me ne faccio di una linguetta che va su e giù essenzialmente su un chiodo poco ok? quindi spoilerata agli amici nipponici se una cosa così l'avessero fatta sul pennino attuale ad esempio dal 743 sarebbe stata già una cosa fatta bene però boh io la cosa la lancio poi vediamo che succede ripensateci cari amici magari montate un pennino simile su queste pene allora sì avrete fatto bingo davvero e avrete reso un favore a chi ama scrivere ok? e con questa considerazione finale un grosso ciao grazie per essere stati sempre qua con me e grazie ancora a Arminio per questo piccolo tesoro ciao a tutti